Poco meno di 4 milioni di euro che non sono mai entrati nelle casse del lato CL2 in liquidazione lente ormai da diversi anni guidato dal commissario Giuseppe Panebianco entro un mese dovrebbe concludere l'attività di gestione degli impianti del ciclo locale dei rifiuti. La staffetta con la nuova società impianti SRR è già stata programmata ai vertici dell'ambito, si stanno concentrando sul recupero di crediti finanziariamente molto pesanti, non ci sono solo gli oltre 6 milioni di euro che gravano sulla comune di Gela e per i quali è in corso una causa giudiziaria davanti al Tribunale delle imprese di Palermo in base ai conti dei tecnici del lato, mancano ancora 3 milioni 825 mila 479,93 euro e questa è la cifra esatta della somma complessiva del debito maturato da gran parte dei comuni dell'intera provincia. Panebianco ha dato mandato di avviare più azioni giudiziarie così da recuperare i crediti, Palazzo di Città che si è opposto all'azione per gli oltre 6 milioni di euro, in base ai numeri del lato deve inoltre versare circa 662 mila euro, anche in questo caso per conferimenti effettuati nell'ultimo triennio nella discarica Timpazzo, nell'impianto TMB e in quello di compostaggio a Brucazzi. Il commissario ha affidato l'incarico all'avvocato palermitano Riccardo Rotigliano che agirà contro il comune, ma non è la sola procedura giudiziaria in programma. Lato attende di incassare almeno 913 mila euro dal comune di Riesi e 927 mila euro da quello di Mazzarino, è stato nominato l'avvocato catanese Agatino Cariola che porterà avanti le procedure da far arrivare poi ai giudici. Tra i debitori diato ci sono inoltre comuni come Sommatino, Caltanissetta, San Cataldo, Piazza Armerina, Delia, Mussomeli, Serra di Falco, Montedoro, Milena, Vallelunga e Campofranco. La cifra più importante è quella dovuta dal comune di Sommatino, poco più di 422 mila euro. Incarichi sono stati assegnati ai legali Claudia Alletto, Alessandra Boscaglia e Riccardo Incarbone. Si costituiranno in giudizio su incarico del commissario.